Con la Ionian Dolphin Conservation stiamo andando a cercare i delfini, c'è una colonia di delfini che vivono vicino a Taranto. A Taranto i delfini ci sono da sempre perché è stata fondata dal figlio di Poseidone che cavalca un delfino. Però i biologi marini della Ionian Dolphin li hanno contati e studiati e si occupano insieme alla città di Taranto in una sinergia di costruire un'orasi protetta in cui i delfini possano stare bene. A Taranto potete venire a fare il tour per vedere i delfini con questi catamarani, poi ve lo faccio vedere bene, è molto bello perché anziché vederli nel delfinario dove i delfini soffrono, vanno visti nel loro ambiente naturale, ovvero il mare. Il pulsante funziona, funziona. Ciao Taranto, ci vediamo a Matera il prossimo weekend.